Bella a tutti ragazzi Oggi faremo un video di Inazuma Eleven 2 Che di reclutare lupone Allora innanzitutto Per lupone dobbiamo avere Delle ragazze di scuola Perciò Non lo volevo provare Ok Che è il partito scusato Non vedo quando lo faccio Poi Andiamo alla macchina Di guinacci Si soffia Si Scusate No scusate Aspettate Lo trovo Poi riprendo Ecco lupone Livello 10 Si trova Al fiume Ok 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 Al fiume Tocchio Fiume No vediamo Ecco lupone 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 Ecco lupone